Questa manopola sull'OMS2380 regola gli spot visivi e anche i filtri per la chirurgia e per l'antipolimerizzazione. Partiamo dallo spot visivo più grande che è questo, dopodiché andiamo nello spot più piccolo che è questo, poi alla fine ne abbiamo altri due, uno e due. Quindi in totale abbiamo quattro spot visivi, oltre a questi abbiamo anche il filtro per la chirurgia verde che vediamo anche qua e abbiamo poi anche il filtro per l'antipolimerizzazione arancione.